Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube David Caleo Gossip, dove vi racconto tutto quello che c'è da sapere sul mondo dei VIP e delle star. Se vi piace il gossip iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere nessun video. Oggi vi parlerò di… Sofì Codegoni e Alessandro Basciano, la coppia nata nella casa del grande fratello VIP 6, sono in crisi? Questo è il dubbio che ha salito i fan dei Basciagoni, dopo aver notato che Sofì ha smesso di seguire Alessandro su Instagram. Un gesto che ha fatto pensare al peggio, soprattutto perché i due ex geffini sembravano vivere una favola, si erano fidanzati nella casa, avevano avuto una bambina, Selin, e lui le aveva chiesto di sposarlo sul red carpet di Venezia. Ma cosa è successo tra Sofì e Alessandro? C'è stato un tradimento? Una lite furibonda? O semplicemente una pausa di riflessione? A cercare di fare chiarezza ci ha pensato la madre di Sofì, Valeria Pasciuti, che ha pubblicato una story su Instagram in cui ha difeso la figlia e ha svelato lo stato della loro relazione. Lei non è strana. Perdona e sopporta perché vuole bene. Ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più. Queste parole hanno fatto pensare che Sofì avesse chiuso definitivamente con Alessandro, ma la verità è un'altra. La coppia, infatti, non si è lasciata e ha dimostrato di essere ancora innamorata e unita. A confermarlo è stato Amedeo Venza, amico dei due, che ha rassicurato i fan dicendo che Sofì e Alessandro resistono e non hanno intenzione di mollare. La prova del 9 è arrivata quando Sofì e Alessandro sono riapparsi insieme sui social, in un video sulla pagina di chi. In quell'occasione, la coppia ha annunciato la loro partecipazione a un evento futuro e ha scherzato sulla questione del follow su Instagram. Sofì ha risposto con ironia quando le è stato chiesto se si seguono nuovamente, facendo una serie di battute divertenti. Lascia perdere che in treno è stato tutto un seguimi, no non ti seguo. Ha ricominciato a seguirmi, se no lo buttavo giù dal treno. Quindi sì, ci seguiamo di nuovo. E non smetteremo più di seguirci. Perché abbiamo tipo tre anni e mezzo a testa. Sofì Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? No, loro smentiscono. E noi non possiamo che essere felici per loro e per la loro piccola Selene. Speriamo che questa crisi sia solo un brutto ricordo e che la loro storia d'amore continui a farci sognare. Questo è tutto per oggi, spero che vi sia piaciuto il mio video e che abbiate scoperto qualcosa di nuovo sul mondo dei VIP e delle star. Se vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e condividete il video con i vostri amici. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdere nessun video. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!